Bonus Terrazzi 2024. Come funziona l'agevolazione fiscale da sfruttare subito? Scopri come il Bonus Terrazzi 2024 ti permette di risparmiare migliorando il tuo spazio esterno e le parti comuni del condominio. Ottieni una detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni dei terrazzi, distribuita su 10 anni dalla dichiarazione dei redditi. Il Bonus Verde offre il 36% di detrazioni per sistemazioni a verde e timpianti, fino a 5.000 euro per unità immobiliare. Pagamenti tramite bonifico parlante e documentazione accurata sono essenziali per usufruire delle agevolazioni fiscali. Grazie per la visione!